Ciao ragazze, allora nuovo video, per questo video ho pensato di parlarvi a vostra grandissima richiesta di tre nuovi prodotti che ho trovato proprio due giorni fa, lunedì, che sono state da Lidl per fare il solito giro di ispezioni e sono davvero contentissima di essere andata soprattutto per provare ma anche farvi vedere due novità che mi hanno entusiasmato tantissimo soprattutto per il prezzo davvero contenuto e gli ingredienti che sono ottimi ma prima di iniziare con il video volevo farvi vedere due nuovi accessori che ho ricevuto proprio questa mattina mi ha suonato il corriere dieci minuti fa da Happiness Boutique sono stata contentissima di tornare a collaborare con loro perché con la precedente collaborazione di cui vi ho parlato già di alcuni dei loro gioielli che vi lascio il video qui sopra nelle schede mi sono trovata davvero molto molto bene, soprattutto perché sono gioielli di qualità non hanno avuto assolutamente nessun danno, insomma non si sono assolutamente rovinati per prima cosa in questa confezione grande, è anche molto colorata, hanno cambiato il loro packaging e mi piacciono tantissimo, ho preso questo bellissimo bracciale come potete vedere è diciamo placcato oro ma non è un oro proprio giallo, sembra quasi un oro rosa e qui ha tutti questi brillantini molto luminosi e fanno la loro figura naturalmente vi lascio il link dei prodotti che vedete qui nel video e giù nell'info box e invece come secondo accessorio ho voluto prendere questi orecchini che sono davvero fatti molto bene gli orecchini mi sono arrivati in questa confezione simile alla precedente ma naturalmente è più piccolina anche questa molto colorata e sono praticamente degli orecchini, non so se si può vedere, a forma lucchetto anche questi della stessa colorazione del bracciale e mi piacciono davvero tantissimo e sono molto facili da aprire in questo modo e si indossano veramente in un attimo passando ora ai prodotti Lidl come vedete ho ancora qui la bustina devo dirvi che come vi anticipavo ho trovato ben tre novità tutte diciamo skin care sono per lo più, anzi sono esclusivamente prodotti per il viso ho ancora lo scontrino di modo che posso essere precisa e dirvi bene tutti i prezzi tra i prodotti in edizione limitata ho trovato a sorpresa perché non avevo mai visto appunto queste novità fra gli scaffali Lidl due maschere in tessuto entrambi sono appunto maschere in tessuto by Cien e partiamo con questa diciamo con il tigrotto come la chiamo io quella bianca e arancione che è praticamente la relaxing tiger è praticamente la relaxing tiger sensazione rilassante con te, macia e allantoina è adatta per tutte le forme del viso e qui dice che deve rimanere in posa tra i 10 e i 15 minuti naturalmente è una maschera monouso che si apre in questo modo e all'interno appunto rimane in tessuto e credo proprio che abbia come vedete proprio questa illustrazione da tigre ragazzi io ho deciso di acquistarla semplicemente perché è un inci ottimo è a base di acqua glicerina, olio di camelia appunto tè masha e io appunto non vedo l'ora di provarla loro consigliano di utilizzarla uno o due volte a settimana ora vi faccio vedere questa maschera viso intatta ma adesso vi metterò una clip in cui ho deciso appunto di provarla con voi di modo che questo video sia il più completo possibile possa quindi farvi una bella recensione allora ragazzi volevo provare adesso con voi questa maschera viso di cui vi ho parlato e la terrò su come è riportato anche qui sopra 15 minuti ho deciso di provare questa perché fra tutte è quella che più mi ha incuriosita ho struccato il viso infatti scusate per l'aspetto e adesso vado ad aprirla ed applicarla apriamo la maschera e già sento che è molto molto piena di prodotto e questa cosa mi piace moltissimo qui ho lo specchio quindi vado subito a metterla perfettamente sul viso vediamo se riesce diciamo a prendere tutte le sue parti wow è davvero molto molto carina è molto fresca e copre benissimo vedete forse questa parte no tutto il viso e adesso direi che ci vediamo fra pochissimo aspettiamo 15 minuti sono passati più o meno 15 minuti forse un pochettino meno rispetto a quando l'ho applicata e devo dirvi che all'inizio ho avuto la sensazione un pochettino di bruciore questo buchetto diciamo delle labbra per me è un po' troppo piccolino infatti devo sempre andare diciamo a allargare adesso la rimuoviamo insieme e sinceramente mi sento un pochettino bruciare qui mentre per il resto la pelle è devo dirvi che sento la pelle un pochettino appiccicosa perché ancora il liquido che era della maschera me lo trovo sulla pelle il viso lo trovo abbastanza compatto non vedo risultati eclatanti però secondo me come maschera di viso se non si hanno grandi problemi come ad esempio per me secondo me va più che bene poi per il prezzo che ha è ottima adesso sto cercando di massaggiare quello che è rimasto della maschera di modo che vada a nutrirmi bene la pelle come prima impressione non mi sembra affatto male e sì ve la consiglio assolutamente la seconda maschera in tessuto simile naturalmente alla precedente è questa bianca e verde con il panda infatti si chiama Splashy Panda sensazione rinfrescante con acido dialuronico ed estratto di fiori di ciliegio ancora adatta per tutte le forme del viso e anche questa deve rimanere in posa 15-20 minuti il modo di utilizzo è identico a quello precedente anche l'inci è molto simile rispetto a quella di cui vi ho appena parlato e devo dirvi che anche questa non vedo l'ora di utilizzarla questa essendo una maschera rinfrescante penso proprio che prima di utilizzarla la riporrò qualche minuto in frigorifero e naturalmente questa ha l'illustrazione a forma di panda entrambe le maschere in tessuto Tiger e Panda hanno un prezzo di 1,49 euro come vi ho anticipato le maschere sono dei prodotti limited edition quindi sono disponibili fino ad esaurimento scorte tra i prodotti invece in collezione permanente ho trovato un nuovo latte detergente nello specifico è il Cien Nature latte detergente viso con Avena Bio certificato BIOS la confezione è questa molto pratica con il dispenser contiene 250 ml di prodotto è nickel tested e ha un pao di 12 mesi quindi un anno il modo di utilizzo è come un classico latte detergente quindi si può utilizzare appunto con un batuffolo di ovatta o semplicemente applicandolo sul viso non l'ho mai provato finora mi fa piacere che sia comunque un latte detergente con ingredienti biologici ha un inci fatto davvero benissimo ed è soprattutto leggo molto adatto alle pelli delicate e secondo me molto molto specifico leggendo comunque l'alta concentrazione di oli sulle pelli secche voglio almeno sentire l'odore ha un profumo buonissimo delicato e non troppo diciamo persistente insistente naturalmente fatemi sapere se voi avete provato questo latte detergente ma anche le maschere viso precedenti e se vi siete trovate bene o meno riguardo appunto questo prodotto voglio provare ad utilizzarlo come sempre anche come struccante per il viso giusto per capire se almeno riesce a rimuovere non troppo magari rossetti mascara eccetera ma più che altro prodotti per la base viso come ad esempio fondotinta, correttore, terre, illuminanti eccetera ed il latte detergente ha un prezzo di 2,29 euro comunque ragazze con questo è tutto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao